Ciao e benvenuto o benvenuta in questo video in cui parliamo di lesioni muscolari e in particolare di strappi. Che cosa bisogna fare e che cosa non bisogna fare in caso di strappo muscolare? Sono Francesco Lanzini, fisioterapista e fondatore di Fisiosocial e se vuoi migliorare sia dal punto di vista del benessere fisico che mentale ti invito a iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato o aggiornata su tutti i nostri nuovi video. Dunque gli strappi muscolari che cosa sono? Come dice la parola stessa sono delle lesioni a livello del muscolo, dei veri e propri strappi. Quindi gli strappi si dividono per semplicità in tre categorie, grado 1, grado 2 e grado 3. Il primo grado è quando si tratta di uno strappo lieve, una lesione solo di poche fibre muscolari. Secondo grado una lesione un pochettino più grave ma non totale. Terzo grado una lesione totale del muscolo. E quando è che si incorre in questi strappi muscolari? La motivazione principale per cui si va incontro agli strappi muscolari è perché si va a richiedere uno sforzo al muscolo che il muscolo non è in grado di sopportare. Cosa significa? Quando non si è molto allenati e si va a fare un movimento che può essere uno sforzo molto grande o un movimento repentino che va a chiedere al muscolo una fatica che il muscolo non è in grado di sopportare questo può portare il muscolo a lesionarsi o a appunto anche andare a stirarsi. Per esempio non per forza si rompe ma si allunga e quindi poi può andare a creare dolore. Può anche capitare se si è allenati ma anche se si è allenati può darsi che si facciano dei movimenti in modo repentino, in modo veloce che i muscoli non sono in grado di sopportare. Quindi non per forza anche se sei allenato ti devi sentire escluso da questa categoria di persone che si strappano anzi gli sportivi sono quelli che si strappano anche un po' di più il consiglio è prima di fare attività fisica comunque di andare a fare un buon riscaldamento di modo che gli strappi poi vengano in modo un po' meno frequente. Quindi che cosa bisogna fare quando si ha uno strappo muscolare? Innanzitutto quello che capita molto spesso in questo periodo è che forse per una moda forse perché non so bene il motivo. Le prescrizioni che vengono fatte molto spesso per gli strappi muscolari sono quelle di Tecar Terapia. In realtà la Tecar è una terapia sulla quale non c'è una grande evidenza scientifica sul fatto che aiuti la cicatrizzazione del muscolo. Il mio consiglio è di lasciare fortemente perdere la Tecar Terapia e di fare degli esercizi che hanno l'obiettivo di velocizzare il processo di guarigione. Infatti se c'è una lesione muscolare e noi andiamo a dare gli stimoli giusti in termini di contrazioni muscolari a questo muscolo noi velocizzeremo il processo di cicatrizzazione. La cicatrizzazione è un processo per cui non si va a ricreare un tessuto che è uguale al muscolo che c'era prima. Si crea un tessuto cicatriziale che ha delle proprietà diverse è un po' meno elastico, un po' meno forte però è un processo che ci permette di liberarci dal dolore e di far funzionare comunque molto bene il muscolo perché il nostro corpo funziona molto bene in questi termini. Quindi che cosa bisogna andare a fare? Bisogna fare, secondo gli ultimi studi, tre tipi di contrazioni muscolari diverse da subito. Quindi il prima possibile puoi iniziare. È chiaro che se hai avuto una lesione molto forte e non riesci nemmeno a muoverti è bene che aspetti qualche giorno. Però se ti rendi conto che riesci a muovere il muscolo anche se hai lesionato il consiglio è quello di comunque cominciare a muoverlo senza ovviamente andare a dargli dei carichi troppo alti però cominciare a muoverlo per cominciare a favorire da subito la cicatrizzazione. Quindi ripeto perché è un concetto molto importante se sei infiammato, gonfio, dolorante aspetta comunque qualche giorno ma se è passato qualche giorno e ti rendi conto che ti riesci a muovere anche due o tre giorni e ti riesci a muovere comincia con questi esercizi. Gli esercizi che bisogna fare sono di tre tipologie. Esercizi di contrazione isometrica, concentrica ed eccentrica già da subito. Perché all'inizio quello che si faceva anni fa era di partire dalla contrazione isometrica poi in un secondo momento passare alla concentrica e poi all'eccentrica. Invece è stato studiato che già da subito si può partire con delle contrazioni anche lievi cioè senza per forza metterci il peso da 10 kg contrazioni anche senza peso però sia concentriche che isometriche che eccentriche. Cosa significa? Isometrica è quando faccio una contrazione senza movimento. Ok? Quindi per esempio faccio una contrazione di questo tipo tengo contro la resistenza della mano tengo per 15 secondi, lascio e lo ripeto per due o tre serie. Questo lo posso fare indipendentemente dal muscolo per esempio se il muscolo lesionato è quello della coscia che è una cosa che capita spesso lo puoi fare a pancia in giù oppure lo puoi fare contro il pavimento spingendo contro il pavimento come sto facendo io in questo modo tieni per 40 secondi e lasci. poi dopodiché la seconda tipologia di esercizio è quella dell'esercizio concentrico quindi il muscolo che si contrae e lo rilasci per un po' di volte se vedi che riesci a farlo semplicemente senza peso puoi anche utilizzare un pesetto ovviamente piccolo all'inizio due o tre chili concentrico e lasci e poi il movimento opposto che è il movimento eccentrico lo puoi fare senza peso e poi ovviamente lo puoi fare anche con un pesetto da due o tre chili ovviamente questo è un movimento un pochettino più pericoloso è il movimento un pochino più rischioso per il muscolo perché se c'è uno strappo questo strappo andrà a distendersi quando noi andiamo a distendere il muscolo però la cosa importante è comunque andare a stimolare il muscolo anche con questa tipologia di contrazione quindi ricapitolando isometrico, concentrico ed eccentrico isometrico senza movimento concentrico il muscolo si contrae eccentrico si distende spero che questo video teorico ti sia stato utile se vuoi chiedermi altre informazioni riguardo gli strappi muscolari ti invito a lasciarmi un messaggio qua sotto e soprattutto se il video ti è piaciuto ti invito a lasciarci un like e di nuovo ad iscriverti al nostro canale se vuoi altre informazioni o leggere altri articoli iscritti da me o da Klaus ti invito ad andare sul nostro sito www.fysiosocial.it ciao e al prossimo video www.fysiosocial.it www.fysiosocial.it Grazie.